Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 60 punti per Trevisan. Siamo sempre sul lato vincenti, chiaramente. Grazie a tutti. 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 Centone per lui. Grazie a tutti. 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 bello deciso, 45 di Daniel Mi. Tripla per Trevisan, solo 4 punti con le altre due frecce, tripla anche per Rocca, e tripla ancora 121. Un'ora in tripla, altro centone, belle frecce qua di Daniele. Una partita in diretta? 45 punti per Rocca, distanza all'avversario. Mi stacchi le cuffie e con questo BOOM avevamo anticipato il passaggio di Rocca alla finale. Dani, 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 vediamo se riusciamo a farlo venire, Dani, vieni a salutare che sono tanti che ti seguono qua, vieni qua, dai c'è Samuele, c'è Raffi, c'è Danilo, salutala che ci siamo, ciao, ciao, ciao bello, complimenti, ti rivedremo in finale, meno male, grande ragazzi, ciao, ciao, alla prossima, ciao, alla prossima. E dettagli? Ciao, 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 ciao. Mom. Dopi,markets? Grazie.